Sarà l'archeologo tedesco Gabriel Zuchtriegel, 39 anni, a guidare per i prossimi 4 anni il Parco archeologico di Pompei. Dal 2015 è stato alla guida del Parco archeologico di Pestum e poi anche di Belia. Zuchtriegel succede a Massimo Zanna, il quale da settembre 2020 è il direttore generale dei musei del MIBACT. Ad annunciarlo in questi giorni il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini. Scelto, afferma Franceschini, grazie al lavoro di una commissione internazionale, come avviene dal 2014, per tutti i direttori dei grandi musei italiani. Proseguirà a Pompei il lavoro straordinario fatto a Pestum. A Pompei ha già lavorato per alcuni mesi prima di vincere il concorso che lo ha portato a Pestum. Gli auguri arrivano anche dall'ex direttore del Parco archeologico di Pompei, Massimo Zanna. A Pompei serve una persona che si dedichi con passione e professionalità e lui ha un curriculum eccellente anche dal punto di vista scientifico ed è un archeologo che conosce il territorio, cosa estremamente importante. Osanna ha ricordato che Pompei è un luogo dove è stato fatto moltissimo, ma c'è ancora molto da fare. È un luogo dove non bisogna mai abbassare la guardia. Questo incarico, per me, ha dichiarato il neodirettore Zug Triegel, significa soprattutto guidare una squadra di altissimo livello, non solo per raccontare le bellezze, ma anche le eccellenze del paese, che è a prepista nella tutela e nella ricerca. Questo è il compito per cui lavorerò e sono sicuro che la squadra vincerà. Il nuovo direttore di Pompei vanta studi e specializzazione in archeologia classica, una tesi di dottorato sul sito archeologico di Gabi, ha guidato dal 2015 il Parco archeologico di Pestum e Velia, dove ha condotto anche campagne di scavo, riportando alla luce un edificio di epoca dorica. Il suo profilo è stato scelto dal ministro nella terna indicata dalla commissione di concorso.